Cominciamo a fare un piccolo breve ricordo perché lo dicevamo prima, tu sei già stato qui un po' di anni fa Tanti anni fa, tanti anni fa, facevo credo bim bum bam, tanti anni fa Esatto E sono stato la prima volta qui e poi non sono più tornato per una serie di impegni tra lavoro, figli eccetera eccetera E rieccomi qua, ho portato il sole Esatto E ho Allora, cominciamo Senti tu un paio di tempo fa avevi raccontato di come nella tua vita hai avuto un'adolescenza, un'infanzia Insomma di leggerezza e spensieratezza In qualche modo ma anche con un codice morale abbastanza importante Tutto questo poi te lo sei portato appresso e sei riuscito in qualche modo a proiettarlo In quella che è stato quel tuo percorso televisivo, artistico eccetera eccetera Quel valore lì, quel riferimento lì, quanto è importante? È importante, i nostri genitori sono importanti, ci modellano, ci muovono, ci trasformano Seguiamo il loro esempio e prendiamo da loro tutto quello che di buono ci possono offrire I miei sono stati e sono ancora, mamma è ancora viva, ha 92 anni e papà non c'è più ma sono sempre stati molto allegri Nelle gioie e nei dolori Diciamo che avevamo questa sentina dell'ironia che ci faceva star sempre bene Indipendentemente da come andassero le cose Papà scaricava il burro ai mercati generali Mamma dopo un po' ha cominciato a lavorare come segretaria Io sono figlio unico perché il dottore gli aveva detto che c'erano dei problemi di sangue Per cui probabilmente il secondo avrebbe avuto dei problemi Già che il primo già ce li aveva Hanno deciso di fermarsi a quel punto lì Senti senza che ripetere